Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it Il ritmo sonno-veglia e di conseguenza anche i relativi disturbi dipendono dalla produzione di due ormoni La melatonina che ci fa addormentare e il cortisolo che invece ci tiene svegli attivi Per questo motivo la melatonina viene impiegata nel trattamento di alcuni disturbi del sonno Mentre il cortisolo può essere ritenuto irresponsabile dei risvegli notturni dopo i quali è difficile addormentarsi In questo video capiamo come questi due ormoni regolano il nostro sonno In quali casi è utile la supplementazione di melatonina e come è possibile intervenire per evitare i risvegli notturni Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale A te non costa nulla, ma noi è di grande aiuto Il ciclo sonno-veglia è un ritmo circadiano, cioè che dura circa un giorno Regolato dalla produzione di due ormoni, la melatonina e il cortisolo La melatonina viene prodotta dalla ghiandola pineale o epifisi Che si trova al centro del cervello, è più piccola di una nocciolina e pesa un decimo di grammo Eppure il suo lavoro è fondamentale La produzione di melatonina è molto bassa durante il giorno Ma inizia ad aumentare al calare della luce Raggiunge il suo picco nelle ore centrali della notte per poi tornare a calare poco prima del risveglio Il cortisolo invece viene prodotto dalle ghiandole surrenali È considerato l'ormone dello stress e la sua produzione segue un ritmo circadiano Praticamente opposto a quello della melatonina La sua produzione infatti cala alla sera per poi aumentare poco prima del risveglio Però in periodi particolarmente stressanti può capitare che i livelli base di cortisolo siano molto elevati E di conseguenza causino dei risvegli notturni Dai quali poi è difficile riprendere il sonno a causa dell'ansia e dell'agitazione connessi Oltre all'andamento circadiano La melatonina subisce anche delle variazioni nella sua produzione durante il corso della vita Nei neonati è minima per poi iniziare a salire durante l'infanzia, raggiungere il picco nell'età adulta E poi tornare a calare nell'anziano Tutto ciò spiega le differenze nel sonno nelle varie epoche della vita Un neonato che deve alimentarsi ogni 2-3 ore anche di notte produce pochissima melatonina In modo da riuscire a svegliarsi per essere allattato Negli anziani invece la diminuita efficienza nella produzione di melatonina spiega la difficoltà ad addormentarsi la sera I frequenti risvegli notturni oppure la tendenza a svegliarsi molto presto la mattina senza riuscire ad addormentarsi Ci sono poi delle situazioni in cui la produzione di melatonina dovrebbe adattarsi molto rapidamente Ad esempio quando con un volo intercontinentale si cambia fuso orario tanto da invertire giorno e notte In questo caso si manifestano i sintomi del jet lag Molto esposti a questo tipo di fenomeno sono soprattutto le persone che lavorano nelle compagnie aeree Suttratte a lungo raggio come il personale di bordo e i piloti L'integrazione di melatonina può sicuramente aiutare a risolvere alcune tipologie di disturbi del sonno Correlati ad una sua alterata produzione E' quindi indicata in caso di jet lag per abituarsi rapidamente al nuovo fuso orario Ma anche per la difficoltà ad addormentarsi per i lavoratori che svolgono turni notturni Difficoltà ad addormentarsi la sera oppure tendenza a svegliarsi molte volte la notte come capita agli anziani Difficoltà ad addormentarsi alla sera e poi a svegliarsi presto al mattino Cosa che capita frequentemente agli adolescenti che tendono a ritardare di molte ore l'addormentamento serale Disturbi del sonno nei ciechi, che quindi non hanno la stimolazione luminosa E nei bambini con disturbi del neurosviluppo Sull'impiego della melatonina nei bambini occorre fare una dovuta precisazione E' sempre auspicabile che la prescrizione provenga dal pediatra Anche se si tratta di integratori di libera vendita L'integrazione di melatonina infatti deve avere una base razionale Non ha alcun senso somministrare melatonina ad un neonato per farlo dormire per più ore di seguito durante la notte In tal caso infatti non si andrebbe ad agire su quello che è un disturbo o una carenza Ma si andrebbe ad alterare quella che è la sua fisiologia del sonno L'impiego della melatonina è sconsigliato in gravidanza e allattamento Oltre che nelle persone che soffrono di malattie autoimmuni Bisogna inoltre fare attenzione all'interazione con eventuali farmaci Come antipertensivi, anticoagulanti, ma anche contraccettivi, sedativi, immunosoppressori e antiepilettici La melatonina generalmente è molto sicura e ben tollerata Anche se può presentare effetti collaterali come sonnolenza, nausea, mal di testa e vertigini In realtà è proprio l'effetto voluto ed è per questo che viene somministrata prima di andare a letto E mai prima di mettersi alla guida Non si conoscono gli effetti dell'uso prolungato La melatonina si trova in commercio sotto forma di integratori con un dosaggio massimo per dose di 1 mg In forma di compresse a rilascio rapido prolungato ma anche in gocce Esistono anche farmaci con dosaggi superiori ma vanno prescritti dal medico Se ti interessa a questo link puoi trovare una selezione di prodotti a base di melatonina su semprefarmacia.it Per orientarsi nella scelta è importante sapere che le compresse a rilascio rapido sono più efficaci nel trattare la difficoltà ad addormentarsi Mentre quelle a rilascio prolungato hanno un maggiore vantaggio nel trattare i risvegli Di solito poi è possibile che alla melatonina vengano associati estratti di piante come la valeriana, le scolze, la passiflora, il biancospino O altri elementi come ad esempio il magnesio che favoriscano il rilassamento Andando quindi ad evitare quelli che sono i risvegli notturni dati dal picco di cortisolo Abbiamo visto come viene regolato il sonno e quando ha senso utilizzare un integratore a base di melatonina Se hai domande lascia un commento Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it La tua farmacia sempre con te